Il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, è intervenuto il 22 febbraio al Teatro Piccolo Reggio alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Sportivo Piemontese 2017, durante la quale sono stati premiati dirigenti, tecnici e atleti. Un premio speciale come dirigente sportivo dell'anno è stato attribuito a Evelina Cristelaine. Premiati anche i campioni piemontesi medagliati ai giochi olimpici e paralimpici di Rio 2016, la cerimonia è stata aperta dal canto degli italiani interpretato dal coro del liceo sportivo Francesco Vercelli di Asti.